Queste immagini le ha girate qualche giorno fa in Ucraina, a Irpin, vicino a Kiev, il regista Valentin Vazianovic e le ha pubblicate su Facebook il suo produttore Vladimir Yatsenko. La vita quotidiana, per così dire, degli ucraini, la gente che fugge, i soldati che aiutano. Il regista e i suoi collaboratori hanno messo in salvo le loro famiglie prima di tornare a casa. Vivo tra Kiev e una casa residenziale fuori dalla capitale. A volte io e gli altri ragazzi usciamo in auto, facciamo attenzione e filmiamo quello che accade, semplicemente immortalando gli eventi, non per usarli in qualche film, ma perché la gente possa poi usarli come pezzi della loro storia, come testimonianze e ricordo. Questo purtroppo non è un film. Nelle sue pellicole precedenti, come in Reflection, presente nella selezione ufficiale a Venezia nel 2021, il regista aveva messo in scena l'invasione russa nel Donbass e in un altro film, Atlantis, ha ambientato la storia dell'Ucraina del 2025. In ogni caso, stavolta la realtà ha superato l'affinzione. Fa così, la mattina ha un tipo di emozioni, la sera un altro tipo. Quando c'è il sole, il cielo è blu, mi sento pieno di speranze e ottimismo, credo nella vittoria. Ma la sera tutto si accumula, le notizie non sempre sono buone. Ci sono molti rapporti che dicono che le nostre forze armate stanno vincendo e conservando il territorio, ma ci sono anche notizie che ti distruggono il morale. Un gran numero di vittime tra i civili, bambini, donne. Le notizie che arrivano da Mariupol, Kharkiv, Buka, Irpin e altre città. Come un diario, Valentin Vasianovic e i suoi collaboratori filmano giorno per giorno scene che sembrano uscite da un film catastrofico, senza filtro e senza messa in scena, solo la realtà, perché questo non è un film.